Poi mi disse, Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato a te. Libro di Daniele, capitolo 10, versetto 11. L'uomo amato da Dio Il libro di Daniele non è semplice da leggere, è pieno di visioni e sogni strani. Tuttavia, anche ad un lettore poco informato di escatologia, è evidente un fatto. Daniele era un uomo molto amato da Dio. Ma ora pensiamo a noi, uomini e donne del nostro tempo, siamo amati da Dio? Cosa risponderesti a questa domanda? Rifletti un istante e poi se è il caso, appropriati del titolo che fu di Daniele, uomo molto amato. Se tu non fossi stato molto amato, saresti stato riscattato con il sangue prezioso di Gesù Cristo? Quando Dio colpì il suo unico figlio al posto tuo, non significa forse che fossi molto amato? Se non ti avesse amato, perché avrebbe fatto di te un suo figlio ed erede del cielo? Questi fatti non dimostrano altro che un amore traboccante che nessun uomo potrebbe dimostrare. Ora, se esiste un amore grande come quello di Dio, perché non dovremmo vivere sotto la sua influenza? Non avviciniamoci a Dio come se fossimo degli estrani, come se Lui non volesse ascoltarci. Ricordiamo che siamo Suoi figli e che ci ha molto amati. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 32 Grazie a tutti